Bene, benvenuti in questo piccolo video di aggiornamento dal vostro caro tostopane. Bene, dato che oggi è anche il 31 dicembre ne approfitto per farvi i miei auguri di un felice anno nuovo e possiamo appunto sperare in un buon 2012 dato che quest'anno, se devo essere sincero, non mi è piaciuto davvero tanto per via di hacking, channel fake, channel contro persone, eccetera eccetera non sto qui a elencare motivi perché perderei secoli quindi direi di andare al dunque dell'update in parole povere la notizia principale è che mi si è rotta la Capture Device che vuol dire che per un po' non potrò più registrare la Capture Device per chi lo volesse sapere è un dispositivo USB con due uscite una analogica con i tre cavi colorati della Wii in questo caso ma anche di un'altra console e una USB che si attacca al computer in pratica converte il segnale da analogico a digitale e quindi si è rotta ma non sembra avere problemi cioè grafici o cose del genere esternamente e però non sembra nemmeno funzionare sul computer insomma ho provato di tutto e di più e nemmeno mi fa installare più i driver non so nemmeno più questo problema ma l'ho provato anche sul mio netbook dove avevo già precedentemente installato i driver di questo dispositivo ma non me lo fa nemmeno funzionare quindi sarà un problema interno di qualche chip qualcosa del genere e altra notizia che è stata piuttosto soddisfacente è che ho comprato un nuovo microfono microfono potrei dire professionale della Logitech compatibile con il Mac quindi adesso si dovrebbe sentire un po' meglio la mia voce e mi viene un po' più comodo registrare quindi quando comprerò un altro capture device penso che prenderò una EasyCup non voglio sprecare i miei soldi per una pinna col... come si chiama? non me lo ricordo in questo momento c'è una capture device della pinna col professionale che registra HD ma sinceramente me ne strafreggo dell'HD perché non solo mi fa caricare video più lentamente poi la qualità non cambia mica tanto se metto 360 magari cambia di pochissimo ma... cioè... me ne strafreggo dell'HD non mi importa davvero niente e quindi altra cosa dato che per un po' non farò video su questo canale e dato che ho ricevuto numerosissime richieste da parte di persone di ritornare a fare tutorial più che altro erano richieste di fare tutorial non di ritornare ho deciso di ritornare appunto a fare tutorial quante ripetizioni creando un nuovo canale vi metterò il link sia in descrizione che con un collegamento sull'immagine cioè su un'immagine che metterò infatti sto prima registrando l'audio e che dire preferirei vi iscriviate a questo canale soltanto se siete interessati ai tutorial perché è come se fossero due canali separati e quindi direi che non siete obbligati a iscrivervi se siete già iscritti qua su TheGamerDani e fate come volete potete chiedermi tutorial lì sia su Windows sia su Mac OS X sia su Linux in questo caso io di distribuzioni Linux Zorinos se si chiama così non mi ricordo sinceramente l'ho installato stamattina e Ubuntu 11.10 quindi potete chiedermi tutorial su quello che volete voi e io li farò però potrò fare anche tutorial random su cose che mi vengono in mente nel caso potrebbero venire utili ok penso di aver concluso quest'update vi auguro ancora un buon anno nuovo e che dire ci vediamo al prossimo video su Dani Tutorial World ciao da TheGamerDani